Gianni, ma che hai fatto? Che è successo? Io mi sono fidato di me. Eppure di te. Ecco il risultato. Ma chi è stato? Come è successo? Non lo so chi è stato, manco li ho visti. Erano dietro di me, mi hanno afferrato e sbattuto a terra. Ma che importa? Tanto la prossima volta sarà qualcun altro, no? Fa tutto schifo. Non ci credo, lo capisco come ti senti. Non lo sai come mi sento. Io non posso essere me stesso. No Gianni, non è così, non è vero. Sono dei bastardi. Sei zitta. Basta, non dire più niente. Attenzione Emma, il rendimento sta calando. Se ti fermi non raggiungerai l'obiettivo del giorno.